100 presenze nell'Eltella Come i miei compagni sto benissimo e voglio solo continuare ad armi bene e fare bene in partita Domenica arriva al Bari capolista, una squadra che recentemente ha portato bene al Comunale Che tipo di partita ti aspetti e cosa sfodererà l'Eltella contro il Bari? Una partita sicuramente dura perché loro sono la prima in classifica, vengono carichi e aggueriti per portare a casa il massimo risultato Però noi stiamo lavorando e dobbiamo portare in campo tutta la cattiveria possibile perché noi dobbiamo ripartire e dobbiamo fare anche qualcosina in più